Al teatro Luca Ronconi di Gubbio, sabato 21 gennaio, e al Concordia di Marciano, domenica 22 gennaio, alle 21, Peperoni difficili, spettacolo teatrale che da tre stagioni registra il tutto esaurito nei teatri italiani. Rosario Lisma, autore e vincitore del premio Eti, nuove sensibilità 2009, con questo nuovo divertente testo si ispira alla tradizione umoristica del Novecento. Ma anche alla commedia all'italiana, ambientato nella cucina di un giovane parroco di provincia, Peperoni difficile è una piccola vicenda realmente accaduta e pone domande sul mentire a fin di bene, sulla verità e il diritto di dirla o di saperla. I personaggi coinvolti, oltre al parroco, sono la sua bellissima sorella volontaria in Africa, un bidello allenatore della squadra dell'oratorio, un bancario colto, brillante e stranamente inconsapevole di essere spastico. Lisma è in scena con Anna della Rosa, grande giovane interprete del teatro italiano, pluripremiata fra gli altri con il Duse e con gli olimpici del teatro, indimenticabile nella trilogia della villeggiatura con la regia di Servillo e i Blackbird, regia di Lius Pascal, apprezzata interprete sugli schermi cinematografici nella grande bellezza, a completare un cast d'eccezione Ugo Giacomazzi e Andrea Narsi, che hanno all'attivo numerosi spettacoli come attori, autori e registi, una commedia che diverte e commuove, sollevando temi importanti. Povani, non c'è mica nessuno che ti insegna!